un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo dalla grande chiesa siamo sul sagrato della grande chiesa intitolata san pio da pietrelcina oggi qui per leggervi un passaggio di una lettera che padre pio scrive da foggia nel 1916 è il convento di sant'anna in foggia padre pio si trova in questo convento lo abbiamo ricordato spesso perché nel febbraio del 1916 attraverso l'aiuto di una nobile donna foggiana raffaelina cerase riuscì a farlo tornare in convento cioè sia padre agostino padre benedetto e raffaelina cerase riuscirono quasi a tendergli un piccolo tranello ecco perché lo volevano a tutti i costi in convento e nel febbraio del 1916 lui padre pio pensava di fare un viaggio di andata e ritorno dalla sua pietrelcina dove ormai si tratteneva da diversi anni ma qui lui a foggia ci fu il ministro provinciale che gli disse tu da qui non ti muovi vivo morto resterai in convento e fu il primo convento dove padre pio possiamo dire dopo questa sua malattia strana permessa dal signore rimane in questo luogo per diversi mesi prima di partire poi per san giovanni rotondo e questo avverrà tra qualche settimana ecco il 28 luglio del 1916 per la prima volta padre pio arriverà qui a san giovanni rotondo siamo al 26 giugno del 1916 cosa accade lui scrive a padre agostino perché padre agostino gli aveva chiesto specificatamente nella lettera precedente ecco una carità me la devi usare ogni volta scrive padre agostino ogni volta che te lo permette gesù e credo che gesù te lo permetterebbe sempre se tu glielo chiedessi chiedilo dunque e non dimenticarlo lo so che ti ricordi sempre nelle preghiere ma ti raccomando di ricordarti pure negli scritti intanto prega gesù e così padre pio risponde sono superlativamente lieto della grazia divina di aver potuto rivedere i vostri ambiti e preziosi caratteri mi fa piacere sentirvi sempre bene in salute e fovoti al buon gesù che voglia conservarla per lunghissimi anni in quante angustie mi trovo per la vostra sorte lo lascio immaginare a voi mi conforta soltanto il consolatissimo pensiero che siete sotto la protezione del cielo senza questo pensiero che è una realtà non saprei non riuscirei a rassegnarmi vi esorto intanto mio carissimo padre a vivere tranquillo rassegnato sempre specie in questi durissimi giorni di prova non dubitate io e tutte le anime amanti di gesù condivideremo con voi tutte le fatiche tutti i dolori e giammai cesseremo di far continua memoria di voi davanti a gesù voi intanto quando il potete e il buon gesù ve lo permetta non cessate di farci pervenire sempre le vostre notizie ci auguriamo che siano sempre ottime riguardo al mio spirito non vi dico nulla per questa volta vi basti sapere che il sole non risplende ancora e le tenebre si vanno sempre più intensificando ma sia fatta sempre la volontà di gesù